Un parere purtroppo non può essere un grande rammarico. Parlo sia da tifoso che da presidente. Da tifoso devo dire che si vive tutto l'anno per partite come questa. Non avere la cornice che è lo spettacolo che comunque andrà in campo domenica, non avere lo spettacolo di tifosi è un rammarico. Dispiace perché sinceramente credo che l'intero mondo della palacanestro abbia bisogno di eventi del genere. Privare una parte del pubblico di eventi del genere credo che sia negativo per l'intero movimento della palacanestro. Da presidente posso aggiungere che è stato fatto un lavoro nelle settimane passate, nei mesi passati per cercare di trovare una soluzione che rendesse accessibile a tutti gli amanti della palacanestro lo spettacolo di domenica. Purtroppo devo dire che il risultato è stato quello che non ci aspettavamo. Se pensiamo che tutto nasse da qualche piccolo, ma davvero sottolineo, piccolo incidente capitato un paio di anni fa a Bologna, quando onestamente io siccome ero all'interno, lì vicino ai nostri tifosi devo dire che sia la collocazione logistica che anche il gestire i nostri tifosi è stato molto discutibile. Dal di lì è nato un po' tutto, con l'inizio di prima un divieto da una parte poi sono proseguiti quei divieti. Io non credo che la politica del divieto sia una politica che possa far crescere il mondo dalla palacanestra, ma forse neanche la società civile. Credo che di fronte a spettacoli importanti, di fronte a spettacoli in cui la partecipazione è un attore fondamentale, vietare sia sempre qualcosa di sbagliato. Un po' la sconfitta di tutti. Aggiungo che abbiamo avuto, e lo devo riconoscere, un dialogo continuo, costante con la questura di Forlì e onestamente pensavamo che anche questo dialogo potesse far sfociare le decisioni che sono state prese, non dimentichiamo, da un'altra parte, perché sono decisioni che arrivano da un osservatorio che è situato a Roma e che decide per questo. Noi oggi non possiamo fare altro che rispettare quelle che sono le decisioni e rispetteremo le decisioni con un grande rammarico. Con Renato ne abbiamo parlato e credo che alla prima riunione di Lega faremo sentire alta la nostra voce, perché onestamente spero davvero che possa essere l'ultimo anno in cui ci sia la parola divieto a una manifestazione sportiva, che ripeto, proprio perché è una manifestazione sportiva che tende a unire persone anche di città diverse, di fede diversa, ma che hanno sicuramente un'unica cosa in comune, che è l'amore per la palacanestro. Privare questo sia comunque un errore per tutto il mondo della palacanestro e credo che anche la Lega sotto questo aspetto qua si debba far sentire con gli organi competenti, perché non è possibile continuare così. Onestamente devo dire che è l'ultima cosa a cui abbiamo pensato, a cui ho pensato, perché tendenzialmente prevale in me quasi sempre la parte del tifoso, che quindi vorrebbe avere il palazzetto sempre pieno e pieno di entusiasmo, ma da entrambe le parti. È quantificabile, si tratta di diverse decine di migliaia di euro, e diverse decine di migliaia di euro su una società sportiva fanno la differenza, e per noi questo significa un danno enorme, quantificabile sicuramente, onestamente purtroppo però è maggiore il rammarico di non permettere a tutti gli amanti della palacanestra di assistere allo spettacolo di domenica. Tendenzialmente tendo sempre a rispettare le disposizioni che arrivano dagli organi competenti in generale. Devo dire che la squalifica di anno scorso fu un qualcosa di incommentabile, perché veramente la squalifica di anno scorso è stato qualcosa, anche quello un danno enorme da un punto di vista economico, ma io non voglio guardare solo il punto di vista economico, ma anche da un punto di vista dei nostri tifosi, voglio e devo guardare anche l'esigenza dei nostri tifosi, fu un danno enorme. Noi quest'anno dobbiamo solo dire grazie ai nostri tifosi, perché credo che siamo stati, abbiamo migliorato enormemente, anche il multometro, ammesso che esista un dispositivo del genere, è completamente diverso da quello di anno scorso, quindi dobbiamo solo dire grazie ai nostri tifosi che hanno avuto un comportamento fino ad ora, vorrei dire perfetto, che può ragionare alla perfezione, perché veramente quel poco che c'è stato, onestamente credo che sia un po' nella logica del tifo, della gestione di qualche migliaio di spettatori ogni domenica. Devo anche dire che quest'anno abbiamo fatto un buon lavoro a livello di security, abbiamo fatto un buon lavoro a livello di organizzazione interna, ma il grazie più grande va ai tifosi che davvero si sono comportati sempre sempre in modo estremamente corretto e questo aumenta il rammarico di non poter domenica poter garantire tutti la visione della partita.